Ciao ragazzi, oggi andiamo a vedere come collegare una chiavetta al proprio smartphone, innanzitutto lo smartphone deve avere il modulo OTG, lo potete vedere su internet o nelle caratteristiche tecniche, poi ci può servire o un cavo OTG che costa più o meno sui 2 euro, quindi ha la micro USB e l'USB femmina o una chiavetta che abbia la micro SD o l'USB, nel caso del cavo l'USB. Allora, andiamo a collegarlo prima col cavetto OTG in dotazione, ok, e attacchiamo la chiavetta. Ecco fatto, una volta collegata la chiavetta, il telefono, vedete, ce la supporterà, adesso ci dice che è danneggiata, formata come memoria, beh adesso perché è la prima volta che l'attacchiamo la formatteremo. Ecco qua, vedete, resta la nostra chiavetta. Andiamo a disconnetterla. Ok, togliamo il cavetto, ed ecco fatto, vedete, siamo usciti dalla schermata della chiavetta. Andiamo ad attaccare, se no, con il secondo metodo, questa chiavetta. Allora, la messa così. Ok. Vedete, ce l'ha aperto ugualmente. Mi raccomando, l'importante è che il vostro device supporti il modulo OTG. Grazie. 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 per i prossimi aggiornamenti un salutone a tutti ragazzi